Grazie Presidente, apprezzabile signor Schott, grazie per accepter l'invitazione e la interrogazione al pubblico. Noi stanno cominciando a che ruolo il signor Schott ha fatto nel processo di hospitalare in un'altra banda. Grazie Presidente. 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 Camber, anche, non è vero che il comissione che arriva a un totale di 450 Camber. Ora, non so se la domanda, se c'è un rapporto per quanto Camber, sorry, quanto Cama corso o mestre, non è vero che c'è un contesto. Non è vero che nel momento in Tams Clinic, con 45 Camber, in Advancing House, con 45 Camber, non sto parlando di un ospital nuovo di 450 Camber. Non sto parlando di 500 Camber, non sto parlando di 500 Camber. Non sto parlando di un'occhio, non sto parlando di un'occhio, non sto parlando di un ospital di 300 Camber. Ora, non so se la domanda, e il risultato è, potete comprender, con il papo di, non sto parlando di un'occhio, il modello di Deventer, il Modell Deventer Hospital, con tanto l'occhio, con tanta barraggia di espertisa, con il modo, con la parlando di un'occhio, con la parlando di 450 Camber. Voglio comprendere che la clinica è existente, è in fraccia, è in traduzione, è in suo diritto di existenza. Chi non sta come governo, vissi, voglio farlo, per sovra, non è che vai trovare un centro al hospital, che è il concepto di, prima di trovare un hospital, grande. Siamo in questa tendenza, 15 anni passi abbiamo deciso di decentralizzare la macerza di Ebovolgens, è un gruppo che stava cercando di centralizzare il cosmo di un dac, tra un hospital di 450 cami, sendo che ci sono solo 300 cami, quindi non ho intenzione per dare l'advento con il tams che non c'era, quindi non ho deciso di trovare un hospital grande, quindi non ho deciso di trovare 45 cami, ma non ho deciso di trovare un cosmo che si chiama l'advento. La idea è che il nostro lavoro è un punto di rincomunizazione, non ho bisogno di trovare, quindi il nostro lavoro è un'evoluzione completamente nuova, con un taskforce di salute e anche un taskforce di finanziare, che stava lavorando a casa, quindi il nostro lavoro è un team, un team assessorando il governo, quindi la base di tutto il consiglio, e non ho bisogno di fare un'evoluzione, quindi la decisione è di farlo, ma non è un'evoluzione, ma non è un'evoluzione, ma non è un'evoluzione, fare una cosaلى, se c'è il tempoianco, sono state le scuole als Nein, ho recommendo avere una pena di priorità, per esempio, per la guesszione della sezione, ma è importante sopaticare, ho bisogno di usare qualsiasi da qualsiasi dasi, se c'è! 清 Nos? Non. 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 un luogo a base di quorum votando per il futuro del paese per la construzione di un hospital nuovo signor Scott in vostro periodo vostro ascolto per la usona seguire il processo di construzione di un hospital nuovo di come ascolto per la usona il suo ruolo nel momento è un salto mirando la struttura in place abbiamo un open bar internazionale sì nel momento è un filo del gabinete è un salto per la usona tantissime nel primo che non non ti interessa di guia il processo qui non ti chiede il pilio non si attende con sì non ti ha capacità quindi è un ruolo di acquadro qui posso adunare un instruccion tocante di essa qui non è menestero encargar con salubrità senora e sin da constancia non si mi ha abin un masterplan arriva a mezza ma pura busca dentro lo qual non mi ti un masterplan che non non mi ti chiede tu tu ti chiede con bu bu requeriment non qui come come mister di un hospital mi ti chiede il è masterplan qui a indica qui ti costano bu che bu vision pac organizzion dis bu gazzante esorbo financiele cadra technische realizzatie organisatie drag vlag en de samenleving juridische kader che men abin tur chiede mese 106 talo quale vorrei discutir cu mnester mnester tambe tava da parte di e decision anto finalmente e otro mandat attende kiko te wansan di go piero pacco su hospital anto genan di mesco e vision e tra bona commissan den quadro aki tapparatin tambe e parte di processo patene quentacu e totalità di quido pacden e master plan co senor scott si non so vor informar co ovvio esse da parte di e processo sin je a etapa da de la cucina ti un on bai gind e entere sector di cuido un gebou novo non cambia nada non sta cambiando il cuido, quindi è stato un cambio nel settore di cuido, il training, preparazione, il equipamento nuovo, la tecnologia, la digitalizzazione, è stato un upgrade total di cultura, conoscere i tempi, per lo che è stato venuto dopo l'hospitalo. Hai considerazione per mantenere il guia di costruzione di un'ospitalo nuovo, ma cerca di il governo, possibilmente via di Gémen, che mi ha parecato il governo molto più importante? Sì, secondo me no, in Malta abbiamo le lezze, le quali il governo è stato un mestre, ma è complicato, mi ha chiesto, è quello che ho dovuto tenere il messaggio. Il gabinetto, in tutto il caso, è venuto con il governo, se c'è il caso di come? Sì, secondo me sono stati tra con Bereshot, è stata parte di un team, quindi è un paquete che sono stati, ovviamente, Bereshot, e si sono stati un ruolo anche. E secondo me è stato un processo di sei gelo, Bereshot ha un ruolo capo. Sì, mi ha chiesto, mi ha chiesto, mi ha chiesto, mi ha chiesto, a adquirire i cani se nerviare di Isona, che nel momento sta manegando un progetto di milioni, con diverse open bar, ambas, per differenti progetto, che hanno fatto un luogo. In questo caso, è stato un'angelo che ha motivato a usare Isona, mirando con il nuovo hospital, che ha costo di costruzione, secondo me è stato di 117 milioni di dollari, che hanno 20 milioni di dollari per l'Aiti, e quindi hanno 90 milioni di dollari per la macchina. in questo caso, è 3 posti, se mi noterà, è 117 milioni di dollari, 20 milioni di dollari, e se è messa, è totalità di gasto con il hospital, lo ha costato. come si è assicurato, come si è assicurato, come si è assicurato, ma quando si è assicurato, la cazzola di gezondità, la cazzola di finanza, non si è assicurato, lo ha costato, è che hanno fatto una cosa che sarà materiale, di costruire un'ospitale nuovo. Però noi stiamo all'interno di avere un'ospitale nuovo. Quindi, mi devo lamentare che un'open bar internazionale con la cana, la maniera della cana, ha sentito che non ci sia un'open bar internazionale di chi offre il mio prezzo. Non c'è un'interruzione così per poter definire quanto è costruzione l'otico costa. Mi tutto non è ampio. E tre stanno che non ci sono ancora un'ombastanza di chi offre il mio prezzo. Non c'è un'ombastanza di chi offre il mio prezzo. Non c'è un'informazione di fare quanto è prezzo di mercato per tre stanno. C'è un'ombastanza di chi offre il mio prezzo. Non c'è un'ombastanza di chi non ho prezzo. Non c'è un'ombastanza di chi offre il mio prezzo. è buono per entregar il lavoro assine il hospital novo su alcun bar ambasso di preparare conosci per tutti per partecipare nella licitazione internazionale con il governo e lo qual è stato in cammino è stato saputo il hospital lo costa quanto c'è in Haiti su gasto non lo sta quanto c'è in la maquinaria lo vorrei gastare è stato non lo visto anticipatamente il presupposto è stato in bestec non preparare pacco e processo qui per noi non underbite del processo di licitazione non lo vuole è stato più barato è stato in turco in place per non avere debacle finanziario che ora non conosce di costruzione di hospital che la costa rupi 100 milioni di mas signor Scott per me posso passare la parola per me con comissione di inquesta parlamentare mi chiesa se il envolvimento di Berend Scott nella fase iniziale di non partecipare e questo è stato che è impressione che non ci sono di processo Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.